Accogliamo in passerella l'acconciatura di Atmosfera! Possiamo fare anche un applauso, è magari timido, brava, brava! Grazie, grazie. Atmosfera del nostro amico Luca, è un collaboratore storico delle nostre federate che questa sera si è venuto venire a trovare con la sua creazione Atmosfera, si trova a Tendi, via Lungoniera, Savoia, 126. Passiamo alla seconda accogliatura, l'acconciatura di El Shik. El Shik del nostro amico Giovanni si trova a Tendi, via Battisti numero 10. Anche El Shik presenta la sua idea di autunno con una creazione. Ricordate? El Shik del nostro amico Giovanni, via Battisti, 10 attenti. E' il momento dell'acconciatura di Figaro. Figaro benvenuto è il nostro amico Francesco, è a Tendi, via Romagna. E anche Figaro Ramai, che è il nostro padre da un anno, è un grande collaboratore dei nostri eventi e anche stasera non ha voluto mangiare. Grazie Figaro, vi ricordo via Romagna, a Tendi. Adesso è il momento della new end del nostro circuito A4B, è il momento dell'acconciatura di Crinti. Benvenuti a Crinti. Crinti, nella nostra amica Cristina, si trova in via Magenta numero 1, naturalmente a Tendi. E così rappresenta la sua creazione per la prima volta durante le nostre serate. Quindi un grande, grande benvenuto da tutto lo stato del Ronnie Scott, grazie a Crinti. Vi ricordo che il trucco è curato da Alessandra Benvenuti, che potete trovare sempre presso Crinti, in via Magenta numero 1, Tendi. E troveremo più tardi le nostre creazioni, e passiamo al secondo momento per Jota. Vi ricordo che Jota, della nostra amica Tatiana, si trova a Tendi, in via del Tribunale numero 7. Vi ricordo che Jota, che stasera propone i grinti esclusivi e i dinamiche, sempre attente alle ultime tendenze. Gioca della nostra amica Tatiana, la troviamo a Tendi, in via del Tribunale 777. Una volta sola, effetto. E' un effetto eco, togli l'eco. Le proposte, per questo giorno, inverno, generale 13, generale 14. Allora, Ronnie Scott insieme a The Threat Night Live e A4 People, tutto insieme, tutto in una notte. Bravo, eh? Il dolce. Qual è il dolce? Il dolce. No, basta. Mi ricordo le proposte di Jota Viglianito, via del Tribunale numero 7 a Tendi. Un partner storico delle nostre serate del club, e naturalmente attenta alle ultime tendenze della moda giovane. E' il dolce. E' il dolce. E' il dolce. Un altro kino. Un altro kino. Un altro kino. e allora giù tra l'affigliamento con le sue proposte per questo notturno in inverno ormai alle porte che fai a Capodanno Massimo Massimo? eh? già ti sente in giro, cosa fai a Capodanno eh? vabbè prima di Capodanno faremo una sera con una sfilata solo per gli abiti da Capodanno, vabbè? insieme a Giota, la nostra amica italiana, proporremo una serie di abiti solo per il Capodanno io vi ricordo Giota si trova a Trevi in via del tifonale numero 7 andatela a trovare perchè la stavrà a soddisfarare con... da quasi già ogni vostra richiesta e bene bene, la moda di Giota finisce qua e cominciamo con la creazione della nostra accrociatoria a parte della atmosfera via Luca Lina a Savoia a Trevi salutiamo il nostro amico Luca bravo Luca e il Shiker che si trova in via Battisti e salutiamo il nostro amico Giovanni ciao Giovanni figliando di Romagna salutiamo il nostro amico Francesco e poi infina accogliamo il mio entri e infinti via Magenta la nostra amica Cristina che presenta il Sungo di Alessandra Benvenuti bene vorrei salutare tutti un saluto al centro di estremità solare il nostro centro di estremità solare grazie a Sabrina grazie a Celina grazie ai nostri amici grazie a Gioca il nostro piccolo momento finisce qua puoi abbassare le luci Alberto se sei pronto puoi cominciare